Kevin Candelori match winner contro la Vastese hai deciso questa gara in generale che tipo di gara è stata premettendo che la vittoria del Campobasso è assolutamente giusta? è stata una partita di alta intensità abbiamo tenuto alto il pressing sappiamo che allora c'è una squadra che è in attacco ha buoni giocatori che ti possono punire un momento all'altro quindi dobbiamo cercare di sporcargli un po' le giocate quindi dobbiamo subito pressargli e non dargli tempo di fare le giocate un bel inserimento in occasione del gol altrettanto bello il taglio di Danilo Alessandro qualcosa di provato credo Danilo è un grasso giocatore tu fai il movimento e ti trovi sempre in modo di mettere la palla lì quindi abbiamo provato le giocate durante la settimana ma anche se non provi le giocate con lui le trovi sempre una giocata la trovi sempre sono due settimane che avete cambiato modulo qualcosa è migliorato con il trequartista l'hai fatto tu contro la vastesa e le due punte questo modulo vi porta a creare più occasioni da gol effettivamente? sì con questo modulo riusciamo a creare più azioni da gol perché gli attaccanti siamo molto più vicini e riusciamo a trovarci meglio e a creare molto con le mezzali che vanno, i terzini riusciamo a creare molto meglio di più vi siete sbloccati in casa? ce n'era bisogno? perché c'era bisogno anche di scrollarsi di dosso quel brutto esordio casalingo sì perché prima in casa dovevamo fare il bene siamo partiti male e dovevamo cercare in qualunque modo di portare a casa una vittoria in casa quindi ci dobbiamo rifare nella partenza abbiamo fatto male in casa e in qualunque modo dobbiamo portare il risultato a casa perché in casa non dobbiamo perdere dobbiamo portare sempre il risultato grazie 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 grazie